Si è svolto a termo il primo consiglio comunale del Dalberto Bis, tra numerose riconferme e anche new entry. Con la proclamazione della giunta e il giuramento del sindaco, Dalberto si è quindi insediato il consiglio comunale eletto alle amministrative dello scorso maggio. Formalizzate le surroghe e l'ingresso dei nuovi consiglieri a seguito delle nomine degli assessori, è rieletto come presidente del consiglio comunale Sandro Melarangelo. Ma tra le problematiche che l'amministrazione comunale si è appressa ad affrontare con l'avvio del nuovo mandato, c'è quella del dissesto idrogeologico. Ieri infatti a causa delle abbondanti piogge si sono registrate due frane, una nella frazione di Pienodaccio e l'altra a Colleatterrato, problematiche su cui il neossessore Mimmo Sbraccia ha annunciato già di essere al lavoro per la loro risoluzione. Iniziamo bene, oggi faremo il consiglio di insediamento e poi ci metteremo subito al lavoro. Non ho paura del lavoro, quindi chi mi conosce lo sa, chiaramente questi alluvioni e questo maltempo erano anni che non succedeva, quindi con calma faremo quel possibile di quello che si può fare. Quello di Pienodaccio, ieri sera con i tecnici che hanno la reperibilità, siamo intervenuti con una segnaletica che poi stamattina verifichiamo il da fare. Per quanto riguarda Colleatterrato, adesso ho avvisato la squadra lì con il capocantoniere che stanno lì andando e vediamo il da fare. Queste bombe d'acqua stanno creando disagi su tutto il territorio nazionale? Sì, sicuramente stanno creando, il problema è che c'è dalle previsioni, si prevede che è continuo e quindi bisogna vedere un attimino, però ripeto, adesso io da domani sono già al lavoro, mi siedo, farò un programma, chiaramente vedere dove trovare le risorse, perché senza risorse non si può fare niente. Possiamo dire un occhio di riguardo alle frazioni? Le frazioni sì, ne sono 47, ad uno ad uno, mi farò un giro su tutte senza abbandonare la città e faremo il possibile.